Si è presentato assieme al suo avvocato alla caserma dei Carabinieri di Lucca, Antonio De Stazio, il vigilantes che era sparito ormai otto giorni fa, insieme al furgone contenente circa 50 kg di oro per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro. Secondo fonti di indagini De Stazio avrebbe ammesso tutto, ma lui attraverso il suo avvocato nega ogni addebito. Secondo infatti la difesa si sarebbe soltanto messo a disposizione sapendo di essere cercato. E al momento dell'oro non sembra esserci traccia da quando quell'11 luglio, durante una sosta del furgone della Securpol nei pressi dell'Italimpianti, il collega del 60enne scende per fare un altro carico e il mezzo, ripreso dalle telecamere di solveglianza, riparte senza aspettarlo. Sarà poi ritrovato poco dopo a circa 300 metri, ma ovviamente vuoto. De Stazio non è in stato di fermo, al momento risulta indagato per appropriazione indebita. Grazie. 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 Grazie.